Mille giorni di te e di me Citazione obbligata per il millesimo giorno di ritardo nella prevista partenza del filobus a Lecce. La storia infinita dell'opera pubblica costata 22 milioni 29 mila 985 euro corre su questi fili. Storia infinita che l'indiano a novembre scorso ha ricostruito documenti alla mano. Da Stream, la monorotaia scomparsa senza fili, il progetto di sistema di trasporto eco-compatibile ad alimentazione elettrica a servizio del centro storico leccese, approvato a Palazzo Carafa con una delibera del 27 dicembre 2000 alla variazione di bilancio l'anno successivo, nel novembre 2001, al mutuo acceso con la Banca Europea degli Investimenti che Lecce sta ancora pagando, al 28 luglio 2003, quando con un aggiornamento al progetto iniziale il chilometro e mezzo di percorso previsto nel centro storico diventò 25 chilometri distribuiti su tre linee, la maggior parte dei quali alimentati da una non meglio precisata linea di contatto. Nelle 56 pagine di relazione non si parla né di fili né tantomeno di pali ma allora per cosa si votò e quale aggiornamento è stato approvato? Interpellati alcuni assessori dell'epoca, fra quelli presenti il coro e un anime. Caro indiano, ti prego di non fare il mio nome, questa non è una dichiarazione ma noi, dei pali e dei fili, l'abbiamo capito solo quando li abbiamo visti. Cosa? Avete votato in giunta il filobus e non ve ne siete accorti? Ma noi abbiamo votato solo un cambio di linee, rispondono. Già, è vero, e si evince anche dall'allegato sostanziale al contratto. Tant'è, il 22 marzo del 2004 la giunta comunale vara il via alla gara. Il primo aprile 2005 i lavori vengono aggiudicati e dovranno essere eseguiti in 540 giorni a partire dal 12 gennaio 2006. La Sirti avrebbe dovuto quindi consegnare il tutto il 9 giugno 2007 e invece proroghe su proroghe. Perché? Gli escavi della sovrintendenza, i problemi di traffico, i ritardi della ditta che in subappalto doveva ancora fornire il capannone per il deposito mezzi, i lavori sulle rotatorie, la mancata nomina del direttore d'esercizio. Nomina che è arrivata pochi giorni fa. Si tratta di Pasquale Borrelli. Ed ora la previsione di partenza, che dovrebbe essere marzo 2010, tra un mese. I leccesi restano in attesa, ancora.